non andare lì che c'è il cane e dove stanno le bambine Giulia perché non vedi la mia lei va di che si arrabbia scusami che stai facendo? che foto? il video sta allattando quella mia ha facciato l'altro cane perché non ci deve neanche perché pura che glieli mangia lei va a capire ma se è mosso quello all'angolo si si è spostato meno male ma vedi quei cagnolini si sono spostati tutti che voglio alcuni non ce la fanno pensavo che non vivevano ma chi l'ha fatta i conigli alti è una coniglia nera che sta in giro e poi? e poi me le ho prese perché io non so